Domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 si voterà per eleggere il nuovo Parlamento. Gli elettori residenti nel Comune di Napoli, che non sono in possesso della tessera elettorale o dell'etichetta per cambio di domicilio, possono recarsi muniti di documento di riconoscimento presso gli uffici della propria Municipalità. Giovedì 1 marzo dalle 8.30 alle 18, venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle 9 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. A disposizione dell'utenza anche la sede centrale del Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale al Parco Quadrifoglio, Seconda Traversa Via dell'Epomeo, che effettua con gli stessi orari il rilascio delle tessere anche per gli elettori residenti all'estero che possono votare in Italia. Gli elettori non deambulanti, iscritti in una sezione non accessibile con sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione esente da barriere architettoniche che appartenga allo stesso collegio, esibendo l'attestazione medica insieme alla tessera elettorale. Per consentire inoltre il trasporto di elettori anziani e disabili non deambulanti al seggio di appartenenza, la Napoli Servizi metterà a disposizione un automezzo presso ogni municipalità. Il servizio si può richiedere contattando i numeri 0817953247 e 0817953207 o via mail all'indirizzo inclusione.sociale.chiocciolacomune.napoli.it Grazie per la visione!